Manuale di Epitteto Le cose sono in due maniere. Alcune è in potere nostro, altre no. Sono in potere nostro la opinione, il movimento dell'animo, la petizione, la versione, in breve, tutte quelle cose che sono nostri propri atti. Non sono in potere nostro il corpo, gli averi, la riputazione, i magistrati e, in breve, quelle cose che non sono nostri propri atti. Le cose poste in nostro potere sono di natura libere, non possono essere impedite né attraversate. Quelle altre sono deboli, schiave, sottoposte a ricevere impedimento e, per ultimo, sono cose altrui. Ricordati, adunque, che se tu reputerai per libere quelle cose che sono di natura schiave e, per proprie, quelle cose che sono altrui, ti interverrà di trovare quando un ostacolo, quando un altro, essere afflitto, turbato, dolerti degli uomini e degli dèi. Per lo contrario, se tu non istimerai proprio tuo, se non quello che hai tuo veramente, e se terrai che sia d'altri quello che è veramente d'altri, nessuno mai ti potrà sforzare, nessuno impedire. Tu non ti dorrai di nienuno, non incolperai chi che sia, non avrai nessun inimico, nienuno ti nocerà, essendo che, in effetto, tu non riceverai un documento veruno. Ora, se tu sei desideroso di pervenire a questo sì felice stato, sappi che a ciò si richiede sforzo e concitazione d'animo non mediocre, e che di certe delle cose di fuori tu dai lasciare il pensiero al tutto, di certe riservarlo per un altro tempo e attendere alla cura di te medesimo sopra ogni cosa. Che, se tu vorrai ad un'ora procacciare i predetti beni ed anco dignità e ricchezze, forse che tu non otterrai neppur queste, per lo studio che tu porrai dietro a quelli, ma di quelli senza dubbio tu sarai privo, i quali sono pur così fatti, che solo per virtù di essi si può goder beatitudine e libertà. Pertanto, a ciascuna apparenza che ti occorrerà nella vita, innanzi ad ogni altra cosa, avvezzati a dire, questa è un'apparenza, e non è punto quello che mostra di essere. Di poi, togli ad esaminarla, e farne saggio con quegli espedienti che tu sai, e prima è massimamente con vedere se ella appartiene alle cose che sono in nostra facoltà, ovvero a quelle che non sono. Ed appartenendo a quelle che non sono, abbia apprecchiata in tuo cuore questa sentenza. Ciò a me non rileva nulla. Sovvengati che l'intento dell'appetizione sia il conseguire ciò che ella appetisce, e l'intento dell'avversione è il non incorrere in ciò che ella fugge. E colui che non ottiene quel che appetisce è senza fortuna, colui che incorre in quel che egli schifa ha cattiva fortuna. Ora, se l'animo tuo non gli schiferasse non solamente delle cose che sono in nostro potere, quelle tali che saranno contro natura, non ti avverrà di incorrere in cosa alcuna, alla quale tu abbi contrarietà. Ma se egli sarà volto a schifare i morbi, la povertà, la morte, tu avrai cattiva fortuna. Astienti dunque dall'avversione rispetto a qualsiasi cosa di quelle che sono in nostro potere, e in quella vece fa di usarla rispetto alle cose che nel numero di quelle che sono in tua facoltà si troveranno a essere contro natura. Dall'appetizione tu ti asterrai per ora in tutto, perciò che, se tu appetirai qualcuna di quelle cose che non dipendono da noi, tu non potrai fare di non essere sfortunato, e delle cose che sono in potestà dell'uomo, non ti si appartiene per ancora alcuna di quelle che sarebbero degne da desiderare. Pertanto tu non consentirai a te medesimo se non se i primi movimenti e le prime inclinazioni dell'animo ad appetire o schifare. Con questo però che le siano lievi, condizionali e senza aver uno impeto. Abbi cura di ricordare a te medesimo il vero essere di ciascheduna cosa che ti diletta, o che tu ami o che ti serve ad alcun uso, incominciando dalle più piccole. Se tu ami una pentola, dire a te stesso, io amo una pentola, perciò che se ella si spezzerà, tu non avrai però l'animo alterato. Se tu bacerai per avventura un tuo figliolino o la moglie, dirai te co stesso, io bacio un mortale. Accio che morendoti quella donna o quel fanciullino, tu non abbi perciò a turbarti. Qualora tu pigli a far che sia, recati a mente la qualità di quella cotale operazione. Se tu vai, ponghiamo caso, al bagno a lavarti, recati al pensiero le cose che accaggiano nel bagno, la gente che ti spruzza, che ti sospinge, che ti rampogna, che ti turba. E per metterti a quell'atto più sicuramente, tu dirai fra te stesso, io voglio ora lavarmi, e oltre di ciò mantenere la disposizione dell'animo mio in stato conforme a natura, e il simile per qualunque faccenda. Così se per avventura a lavarti ti sarà occorso alcuno in paccio, tu avrai pronto il modo di consolarti, dicendo, io non voleva fare solamente questo, ma it'sendio mantenere la disposizione dell'animo mio in grado conforme a natura. Ma io non la manterrò in cotale stato, se io mi cruccerò di questo che ora mi interviene. Gli uomini sono agitati e turbati, non dalle cose, ma dalle opinioni egli non hanno delle cose. Per modo di esempio, la morte non è punto amara, altrimenti la sarebbe riuscita tale anche a Socrate, ma l'opinione che si ha della morte, quello è l'amaro. Pertanto, quando noi siamo attraversati o turbati o afflitti, non dobbiamo però accagionare gli altri, ma sì veramente noi medesimi, cioè le nostre opinioni. Egli è da uomo non addottrinato nella filosofia l'addossare agli altri la colpa dei travagli suoi propri, da mezzo addottrinato l'addossarla a se stesso, da addottrinato il non darla né a se stesso né agli altri. Guarda di non insuperbire di alcuna eccellenza e di alcun pregio altrui. Se un cavallo montando in superbia dicesse «Io sono bello», ciò sarebbe per avventura da comportare, ma quando tu ti levi in superbia dicendo «Io ho un bel cavallo», avverti che tu insuperbisci di un pregio che è del cavallo. Sai tu quello che è tuo, l'uso che tu fai, delle apparenze, delle cose, sicché quando nell'usare di queste apparenze tu ti reggerai conforme a quello che la natura richiede, allora tu piglierai con piacenza di te medesimo a buona ragione, impero che quello sarà un pregio tuo proprio. Siccome in una navigazione, perché il legno ha dato in terra qualche porto, se tu esci dal legno per far acqua, tu puoi bene ancora venire cogliendo per via qua una chiocciolina, là una radicetta, ma egli ti conviene però aver sempre il pensiero alla nave e voltarti spesso per intendere se il piloto ti chiama e chiamandoti lasciare tutte quelle cose per non aver a essere cacciato dentro legato come si fa delle pecore. Così nella vita, se in cambio di radicette o di chioccioline ti si porgerà una donnicciuola o un putto, niente vieta che tu non lo debba pigliare e godertelo, ma se il piloto ti chiama, corri tosto alla nave senza voltarti, lasciata stare ogni cosa, e se tu sarai vecchio, non ti dilungherai dal legno gran tratto per non avere a mancare quando il piloto ti chiami. Tu non devi cercare che le cose procedano a modo tuo, ma voler elle che vadano così come fanno, e bene starà. La malattia è un impiccio del corpo, ma non della disposizione dell'animo, solo che esso non voglia. L'essazoppo si è in paccio della gamba, ma non della disposizione dell'animo. Il simile dirai per ogni accidente che ti sopravvenga, e perciò che troverai che esso sarà di natura da fare in paccio a qualche altra cosa, ma non a te proprio. A ciascuna cosa esteriore che ti occorra, rivolgiti sopra te stesso, e cerca quale delle facoltà tu hai si possa adoperare verso di quella. Se tu avrai veduto un bel garzone o una bella donna, troverai che da poter usare verso di queste cose, se tu hai facoltà della continenza. Se ti occorrerà una fatica da sostenere, troverai la facoltà della tolleranza, se è una villania, la pazienza, e così accostumandoti, tu non ti lascerai trasportare dalle apparenze delle cose. Non dir mai di una cosa veruna, io l'ho perduta, ma bene, io l'ho restituita. Ti è morto per avventura un figliuolo? Tu l'hai renduto. Morta la tua donna? Tu l'hai renduta. Ti è stato tolto un podere? Or, non è egli renduto anche questo? Ma colui che me ne ha spogliato è un ribaldo. Che fa egli a te che quegli che ti aveva dato il potere te lo abbia richiesto per via di tale o di tale altra persona. Fino a tanto poi che egli ti lascia tenere o il terreno o che che altro si sia, pigliene quel pensiero che tu prenderesti di una cosa che fosse d'altri, come fanno dell'albergo i viandanti. Se tu vuoi far progresso nella sapienza, lascia da parte questi cotali discorsi. Se io non avrò cura della mia roba, non avrò di che vivere. Se io non gastigherò il mio schiavo, egli sarà pure un furfante. Meglio è morirsi di fame dopo una vita libera da travagli e timori che vivere inquieto in grande abbondanza di ogni cosa. Meglio è che il tuo schiavo sia tristo che non tu infeliziai. Tu incomincerai dunque dalle cose piccciole. Ti si versa un poco d'olio? Ti hai rubato un poco di vino? Tu dirai A tanto si vende la tranquillità dell'animo, la costanza. Niente si può avere gratis. Quando chiami il tuo fante, pensa che gli può accadere che colui non toda e che ancora udendoti non faccia però nulla di quel che tu vuoi. Ora, tu non voler tanto concedere al tuo fante che egli abbia in sua mano di poterti turbare la quieta dell'animo. Se tu vuoi che la moglie, i figliuoli e gli amici tuoi vivano sempre, tu sei pazzo. Però che tu vuoi che dipenda da te quello che non è in tuo potere e che quello che è d'altrui sia tuo. Parimenti, se tu vuoi che il tuo servo non commetta errore, tu sei sciocco, perché questo è un volere che la malizia non sia malizia, ma qualcos'altro. Ma se tu vuoi non desiderar cosa che poi non ti venga ottenuta, questo sì che lo puoi, pertanto industriati ad ottener questo che tu puoi. Colui che ha in sua facoltà di dare o torre a una persona quel che essa vuole o non vuole, è padrone di quella cotal persona. Però chiunque ha volontà di essere libero, faccia di non appetire né fuggir mai cosa alcuna di quelle che sono in potestà d'altri, o che altrimenti gli bisognerà in ogni modo essere schiavo. Tieni a mente che tu dai governare in tutta la vita, come a un banchetto. Portasi attorno una vivanda. Ti s'afferma ella innanzi, stendi la mano e pigliane costumatamente. Passa oltre. Non la ritenere. Ancora non viene. Non ti scagliar però in là con l'appetito. Aspetta che ella venga. Il simile in ciò che appartiene ai figliuoli, alla moglie, alla roba, alle dignità. E tu sarai degno di sedere una volta a mensa con gli dèi. Che, se tu non toccherai pur quello che ti sarà posto innanzi e non ne farai conto, allora tu sarai degno non solo di sedere con gli dèi a mensa, ma essendio di regnare con esso loro. Persifatta guisa operando, Diogene, Eraclito e gli altri simili venivano chiamati divini. E tali erano veramente. Quando tu vedi alcuno che pianga o per morte di alcun suo congiunto o per lontananza di un figliuolo o perdita della roba, guarda che l'apparenza non ti trasporti in guisa che tu pensi che questo tale, a cagione delle cose estrinseche, patisca alcun male vero. Ma tu distinguerai teco stesso subitamente e dirai questo è tribolato e afflitto non dell'accaduto, poiché questo medesimo non danni una tribolazione a un altro, ma dà il concetto che egli ha dell'accaduto. Ciò nonostante tu non farai difficoltà a secondare il tuo dolore in parole ed anco, se occorre, di sospirare insieme seco. Ma guarda che tu non sospirassi però di cuore. Sovvengati che tu non sei qui altro che attore di un dramma, il quale sarà o breve o lungo, secondo la volontà del poeta. E se a costui piace che tu rappresenti la persona di un mendico, studia di rappresentarla acconciamente. Il simile se ti è assegnata la persona di uno zotto, di un magistrato, di un uomo comune. atteso che a te si aspetta solamente di rappresentar bene quella qualsiasi sia persona che ti è destinata, o eleggerla se appartiene ad un altro. Quando un corvo gracchiando porge cattivo augurio, non ti lasciar muovere da si fatta apparenza, ma subito distingui te come desimo e di questo animale non pronuncia né una disavventura a me proprio, ma forse a questo mio corpicino, o forse alla mia robicciuola, alla riputazioncella, ai figliuoli, alla moglie. Quanto si è a me, questo, se io voglio, è augurio buono, anzi ottimo, impero che io ricaverò utile dal successo quel che gli sia per essere solo che io voglia. Tu puoi essere invito, e cioè se tu non ti metterai a nessun garingo dal quale tu non abbia in tua facoltà di riuscire con la vittoria. Guarda che quando tu vedi uomini onorati o potenti, o come si sia riputati e osservati, l'apparenza non ti faccia forza in maniera che tu gli creda avventurosi e felici, perciò che se la essenza del bene sta nelle cose che sono in nostra facoltà, non devono aver luogo né invidia né gelosia, e tu per la tua parte non vorrai essere né capitano di esercito né presidente del consiglio, né console, ma libero. E a questo c'ha una sola via, che è non curarsi delle cose che non sono in nostro potere. Ricordati che colui che rampogno per quote non offende esso, ma l'opinione che si ha che queste cotali offendano. Sicché quando tu ti senti montare la collera contro uno, pensa che la tua propria immaginazione è quella che ti sprona all'ira e non altri. Pertanto sforzati di impedire che l'apparenza non ti trasforti in sul primo, che se tu otterrai un poco di tempo e di indugio, più agevolmente ti verrà fatto di vincerti e di contenerti. Abbi tutto il giorno dinnanzi agli occhi la morte, l'esilio e tutte quelle cose che appaiono le più spaventevoli e da fuggire, e la morte massimamente, e mai non ti cadrà nell'animo un pensier vile né ti nasceranno desideri troppo accesi. Vuoi tu darti a filosofare? Apparecchia Tinsin da ora a dover essere schernito e deriso da molti. Aspettati che la gente dica «Oh, egli ci si è tramutato in filosofo a un tratto e che vogliono dire quelle sopracciglia aggrottate? Ora tu non aggrottare le sopracciglia, ma non lasciar però di attenerti a quello che tu estimi il migliore, perseverando, come a dire, in una ordinanza nella quale tu si è stato collocato da Dio. E sappi che se tu durerai nel tenor di vita incominciato, quei medesimi che a principio si avranno preso gioco di te, in progresso di tempo cangiati ti ammireranno, laddove se per li motteggi ti perderai d'animo, tu ne guadagnerai le beffe e le risa doppie. Semmai per volere acquistare la buona estimazione di alcuno, ti sarà intervenuto di versarti per dir così fuori di te medesimo, sappi che tu avrai rotto l'abito e sarai uscito dai termini del tuo istituto di vita. Però non cercare altro mai che di essere filosofo e sii contento e soddisfatto di questo in ogni cosa, che se oltre ad essere tu volessi parere parere fa che tu paia filosofo a te medesimo e tanto ti basti non istare a darti pena e sconforto dicendo fra te medesimo io menerò una vita ignobile e io non sarò nulla però che se la ignobilità è un male non puoi tu patire alcun male per cagioni d'altri più di quello che incorrere in alcuna vergogna ora dimmi il pervenire a un ufficio pubblico o l'essere chiamato a un convito forse che sta in tuo potere or come dovrai gli essere ignobile o ignominioso che tu non abbi parte in questo convito o che non pervenghi a questo ufficio e come di che tu non sarai nulla quando a te non si conviene essere qualche cosa se non solamente in quello che è in tua facoltà dove tu puoi bene essere d'assaissimo ma gli amici non avranno da me aiuto né beneficio alcuno ma di che benefici e di che aiuti vuoi tu intendere non avranno da te oro che queste sono cose di quelle che dipendono dal nostro arbitrio e non cose poste in potere altrui chi può dare a un altro ciò che non ha egli e tu fa di acquistare dirà qualcuno per poter dare a noi se io posso acquistare salva in me la vericondia la fede e l'altezza dell'animo mostratemi come si faccia e io non mancherò ma se che poca equità e che indiscrezione è la vostra oltre che qual vi eleggeste voi prima tra denari e un amico fedele ben costumato che non mi aiutate voi dunque piuttosto essere tale in cambio di volere che io faccia cose per le quali mi convenga perdere queste virtù ma la patria non avrà da me alcun servigio ancora di che servigi vuoi tu intendere non avrà però per la tua né bagni né portici che meraviglia neanche a calzari dal fabbro né arme dal calzolaio e gli basta bene che ciascheduno adempia l'ufficio suo dimmi se tu istituissi e informassi alla tua patria un altro cittadino modesto e leale non le faresti tu alcun beneficio certo che sì or come le sarai dunque inutile tu medesimo essendo tale ma che quello che tu potrai salva la modestia e la fede che se per voler giovare alla patria tu perderai la fede e il pudore che profitto le farai tu divenuto che sarai sleale e impudente ti è egli stato anteposto di onore il tale o il tale a un banchetto oppur nel saluto o nell'essere cerco di consiglio se questi cotali onori sono beni egli ti debba essere caro che colui li abbia avuti se mali non ti dè dispiacere che non siano toccati a te poi considera che non facendo tu per amore delle cose esterne quel medesimo che gli altri fanno tu non puoi nel conseguimento di quelle andare al paro con gli altri come può per modo di esempio colui che non frequenta le soglie dei grandi che non gli accompagna che non gli loda queste cose e gli sarebbe in giustizia ingordigia che non pagando tu quel prezzo a che si comperano i favori e i benefici dei potenti e dei ricchi tu gli volessi aver gratis a quanto si vendono le lattughe oggi ponghiamo caso a un obolo ora facciamo che uno spendendo un obolo abbia tolto delle lattughe e tu non i spendendo non ne abbia tolto tu non dai però pensare di aver punto meno che si abbia colui però che se gli avrà le lattughe e tu avrai l'obolo che non avrai speso il simile nel caso nostro tu non sei stato invitato a cena dal tale ma neanche hai dato a lui quello a che gli vende la sua cena ora egli la vende a prezzo di lodi di osservanza di ossequi paga dunque il prezzo se la mercanzia fa per te ma se tu vuoi non pagare il prezzo e avere la merce questa sì è ingordicia e furfanteria forse che in cambio della cena tu non hai nulla sì che tu hai ben questo che tu non hai lodato chi non volevi che non sei stato ad aspettarlo in sull'uscio la intenzione della natura si conosce da quelle cose dove noi non abbiamo interesse se il fante del vicino avrà spezzato un bicchiero o cosa tale subito ti correrà in sulla lingua e le sono cose che accaggiano ora sappi che chi spezzasse il tuo bicchiero tu le dai pigliare in quella medesima guisa che tu le piglierai se si spezzi quello del tuo vicino così a un altro il figliuolo o la moglie sono casi umani muore il figliuolo o la moglie propria tostogli oimè gli ai ai ma egli si converrebbe avere a memoria quello che ci interviene quando il medesimo caso ci è riferito di un altro come non si mette un bersaglio a ciò che l'uomo non lo colga così non si genera e non si ritrova al mondo la natura del male se uno desse il tuo corpo in potestà di qualunque che gli venisse alle mani tu te ne sdegneresti e dando tu la tua mente in potere di chi che sia per modo che se egli ti dirà una mala parola quella si turbi e confonda non ti vergogni però punto innanzi di metterti a qualsivoglia operazione divisa ne non pensando punto alle cose che hanno a venire ma in progresso nascendoti qualche difficoltà e qualche vitupero tu ti vergognerai desideri tu diventare vincitore olimpico io non meno di te per dio che ella è una qualità che fa onore ma considera prima le antecedenze e le conseguenze e poi mettiti all'opera e gli ti conviene sottoporti a una disciplina e osservare una regola mangiare sforzatamente astenerti dalle confetture ecotali piacevolezze esercitare il corpo per forza a certe ore assegnate sia al caldo come al freddo non usare bevande fresche né vino a tuo piacimento infine darti tutto in mano al maestro né più né meno come a un medico di poi scendere nell'aringo ha un bisogno guastarti una mano smuoverti un tallone ingoiare di buoni tratti di polvere ha un bisogno anche toccare delle sferzate e poi per ultimo esser vinto considerato che avrai tutte queste cose se tu persevererai nel concetto di prima datti agli esercizi dei giochi ma se tu non considererai cosa alcuna innanzi tu ti aggirerai come i bamboli che ora fanno i lottatori e quando gli atleti e quando gli schermitori poi strombazzano poi contraffanno le tragedie così anche tu oggi schermitore domani atleta e quando oratore poi filosofo e nulla mai veramente e con tutto l'animo ma in guisa delle scimmie tu contraffarai tutto quello che tu vedi e muti voglia ogni tratto però che tu non imprendi mai cosa alcuna consideratamente espiata la prima bene da ogni banda ma così a caso e per qualche fantasia leggera egli ci ha di quelli che veduto per avventura un filosofo o udito dire a questo o a quello o socrate dice pur bene e chi è che possa favellare come faceva socrate si mettono per voler filosofare ancora essi o uomo considera prima sottilmente questo fatto del filosofare di che sorta egli sia e quindi fa di conoscere la tua natura a veder se tu sei buono da comportarlo vuoi tu pigliare la professione di fare alla lotta ovvero ai cinque giochi tu hai da por mente alle tue braccia alle cosce ai lombi poiché è una complessione e acconcia a una cosa e una a un'altra pensi di poter filosofando mangiare e bere e fare lo schifo e il delicato come al presente egli ti bisogna vegliare e faticare separarti dai tuoi e servili peso da un fanticello in tutto essere inferiore agli altri negli onori nei magistrati nei giudizi in ogni coserella considera bene queste difficoltà e questi incomodi e vedi se egli ti pare spediente di sostenerli per avere in compenso di quelli la libertà lo stato dell'animo senza perturbazioni senza passioni e non voler fare come i fanciulli oggi filosofo poi gabelliere appresso oratore indi procuratore di Cesare queste qualità non si accordano insieme egli si vuole essere una persona sola o valente o da poco adoperarsi intorno alla parte principale di noi medesimi o intorno alle cose di fuori aver cura dell'intrinseco e dell'estrinseco che è quanto dire essere filosofo oppure uomo comune i doveri e gli uffici si misurano generalmente dalle relazioni il tale ti è padre appartienti si aver cura di lui cedergli in ogni cosa se ti rampogna se ti batte portatelo pazientemente ma egli è un cattivo padre forse che la natura ti obbliga al padre buono non già ma semplicemente al padre il fratello ti fa egli torto tu non mancar però seco dell'ufficio di tuo fratello e non guardare quello che si faccia egli ma quello che abbia a far tu per procedere secondo natura però che già un altro non ti può far un documento se tu non vuoi ben sarai tu offeso se tu stimerai che altri ti offenda or dunque nel predetto modo se tu ti accosterai di por mente alle relazioni troverai gli uffici e i doveri che ti si appartengano rispetto al vicino al cittadino al capitano e a qualsivoglia altro la pietà verso gli dèi consiste massimamente in aver sane rette opinioni intorno a quelli cioè in credere che egli ci ha veramente i dì e che questi dì governano ogni cosa bene e con giustizia e in assegnare a te medesimo questo ufficio e questa parte di dovere ubbidire agli dì e cedere in ogni cosa gli avvenimenti e acconciarviti di buon grado come quelli che sono condotti dal miglior consiglio e dalla miglior volontà del mondo impero che avendo queste opinioni tu non vorrai per cosa alcuna dolerti degli dèi né imputarli che non ti abbiano cura or tutto questo non può altrimenti essere che se tu ti distaccherai dalle cose esterne riponendo il bene e il male in quelle cose solamente che sono in tua potestà imperciò che se tu reputerai pure che alcune delle cose strinse che siano beni o mali tu non potrai fare quando tu non venghi a capo di ottenere quello che avevi desiderato o che tu incorra in quello che tu fuggivi di non querelarti degli autori di questo effetto e di non pigliarli in odio essendo che tutti gli animali per natura fuggono e odiano quelle cose che paiono loro nocive e le cagioni di esse siccome per lo contrario le cose riputate utili e le cagioni di quelle seguono e pregiano la onde e gli è impossibile che uno il quale si creda ricevere il documento ami quella tal cosa la quale egli si penserà che gli noccia così come è impossibile che uno ami il documento medesimo di cui è che il figliuolo trascorre alle male parole contro il padre quando costui non gli fa parte di quelli che la gente estima essere beni e Polinice ed Eteocle per questo vennero tra loro in discordia però che essi reputarono essere un bene il principato perciò l'agricoltore perciò il navigatore e il mercante bestemmiano gli dèi e quelli che hanno perduto i figliuoli e le mogli bestemmiano gli dèi essendo che la pietà segue sempre l'utile di modo che c'è scheduno che procaccia di desiderare e fuggire solamente quello che è da essere desiderato e fuggito procaccia al tempo medesimo di essere pio quanto si è alle ribazioni ai sacrifici all'offerire delle primizie queste cose si debbono fare da ciascuno e ciò secondo le osservanze della propria terra con purità e mondizia e non trascuratamente né in fretta né con soverchia strettezza né sopra quello che comportano le facoltà quando tu andrai per consultare qualche indovino ricordati che tu non sai per verità il come sia per succedere il fatto e vai per chiedere all'indovino ma ben sai d'altro canto la qualità del successo se tu sei filosofo però che sesso è del numero di quelle cose che non dipendono dal nostro arbitrio perciò solamente è manifesto che il medesimo non sarà né bene né male fa dunque andando dall'indovino di non recar teco né desiderio né avversione e di non ti accostare a quello tremando anzi risoluto che qualsiasi per essere il successo è cosa verso di te indifferente e che non ti fa nulla perché in tutti i modi tu avrai facoltà di volgerlo in tuo profitto e ciò non ti potrà essere vietato da chi che sia però con animo franco e sicuro va come dire a consigliarti con gli dèi e fatto questo ha avuto qualche consiglio ricordati che consigliatori sono stati i tuoi e chi sono coloro ai quali tu mancherai di prestare orecchio se tu ti dipartirai dall'avviso che ti è stato porto egli si vuol poi conforme ordinava Socrate cercare il consiglio degli indovini in quelle occorrenze nelle quali il bene o il male deliberare si riferisce totalmente alla riuscita e dove né per ragione né per alcuna arte si hanno espedienti da conoscere il partito che si debba prendere di modo che se egli ti darà occasione di doverti porre a qualche pericolo per la patria o per uno amico tu non andrai per chiedere all'indovino se tu debba sottentrare a questo pericolo perciò che quando pure ti fosse detto dall'indovino i segni delle vittime essere di mala qualità manifesto è che per questa cosa ti sarebbe significata o la morte o il troncamento ovvero lo storpiamento di qualche parte del corpo o forse l'esilio ma ragione ti mostra che ancora con tutto questo egli si vorrebbe assistere all'amico e mettersi al pericolo per la patria e pertanto tu obbedirai ad un maggiore indovino io voglio dire ad Apollo Pizio il quale scacciò dal tempio colui che era mancato di soccorso all'amico in quella che egli era messo a morte stabilisci a te stesso come a dire un carattere e una figura la quale tu abbi a mantenere da quindi innanzi si praticando te stesso e si comunicando con le persone tacciasi il più del tempo o dicasi quel tanto che la necessità richiede con brevità solo qualche rara volta confortandovici il tempo e il luogo discendosi a favellare distesamente ma non di cotali materie trite ordinarie non di gladiatori o di corse di cavalli non di atleti non di cibi né di bevande né di siffatti altri particolari di che si ode a favellare tutto il di e sopra ogni cosa non di persona alcuna lodando o vituperando o facendo comparazioni fa se tu puoi di raddrizzare e ridurre al convenevole i ragionamenti dei compagni se tu ti muoverai solo tra persone aliene dalla filosofia tienti senza far motto poche risa e non grandi e non di molte materie non prender mai giuramento se tu potrai se no il più di lado che tu possa schifa di trovarti a conviti di persone comunali e remote dalla filosofia e se ciò per alcuna occasione talvolta non si potrà schifare ricordati di stardesto e attento più del consueto che tu non trascorressi nei modi e costumi della comungente impero che sappi che di necessità se il compagno sarà lordo e che tu gli praticherai d'attorno tu ti lorderai ponghiamo che ora sii netto le cose appartenenti al corpo come dire il mangiare il bere il vestito il tetto la servitù adoprinsi non più oltre che in quanto le servono al puro uso tutto quel che è ad ostentazione e ad elizia toglisi via innanzi alle nozze egli si vuole astenersi dai diletti carnali quanto si può e usandogli pure alcuna volta non si discostare in ciò dalle leggi ma tu non vorrai perciò riprendere e noiar con parole coloro che gli sogliono usare e non istarai ad ogni poco a mettere in campo che tu non usi di così fatte volutà chi ti riportasse che il tale o il talaltro dicesse mal di te non pigliare a scusarti e difenderti ma rispondi che egli si veda bene che questi non ha contezza degli altri difetti che io ho però che sapendogli ei non avrebbe tocco solamente questi a teatri non accade usare molto ma quando ti sarà nata occasione di trovarti in cotali luoghi non dimostrar sollecitudine o pensiero di qualsivoglia altro che di te stesso cioè non voler che avvenga se non quel medesimo che avverrà né che vinca altri che quegli a cui toccherà la vittoria però che in tal modo non ti interverrà che il tuo desiderio abbia impedimento dal gridare dal soverchio ridere sopra alcuna qualsiasia persona o cosa dal molto dimenarti e contorcerti convienti a stenere del tutto è uscito che tu sarai di là non andar troppo ragionando con gli altri dell'accaduto se già non fosse di cose che potessero conferire a farti migliore però che tu faresti segno che lo spettacolo ti fosse oltremodo piaciuto non andare non andare all'audienza di certi dicitori anzi schifa di trovarti in ogni modo che se per ventura vi ti troverai fa diserbare una contenenza grave e soda e non però spiacevole né superba accadendoti di dover venire a qualche ragionamento o pratica con chi che sia e specialmente con alcuno di quelli che sono reputati soprastare agli altri proponti dinanzi agli occhi quello che avrebbe fatto in tale occorrenza o Socrate o Zenone e tu non sei per mancare del modo di portarti convenientemente in ogni caso andando a trovare alcuno dei potenti mettiti nell'animo che tu non sei per trovarlo a casa che gli si sarà serrato dentro che non ti sarà voluto aprir l'uscio che colui non ti darà mente e se con tutto questo per non mancar dell'ufficio tuo ti conviene andare portati in pace a ogni cosa che ti intervenga e non dir mai fra te stesso che gli non portava il pregio che è un parlar da uomo ordinario e dato tutto quanto alle cose esterne guarda bene nei cerchi e nelle compagnie che tu non istessi a far troppe parole intorno ad azioni fatte o a pericoli sostenuti da te medesimo perciò che non siccome gli piace a ciascuno di raccontare i propri pericoli così riesce dilettevole alle persone ludir le avventure di chi favella non istare anche a studiarti di muovere il riso perché ciò facendo si porta pericolo di trascorrere ai modi e alla usanza dei più oltre che di leggeri avverrebbe che i circostanti rimetterebbero più o manco della loro riverenza verso di te egli è medesimamente pericoloso lo entrare in ragionamenti di cose oscene e per quanto dove ciò intervenga se egli ci avrà luogo tu sgriderai quel tale che sarà entrato in così fatta materia se no col porti a stare in silenzio e collo arrossire e fare il viso brusco tu darai ad intendere che quel cotal favellare ti spiaccia se tu avrai concetta la immaginazione di alcuna volutà guarda che cotale impressione non ti trasporti ma fa per modo di dire che la cosa aspetti e in petra da te medesimo un poco di indugio poi mettiti davanti agli occhi l'uno e l'altro tempo quando tu ti godrai questa volutà e quando goduta che tu l'abbi tu te ne pentirai e rampognerai te come medesimo e a rincontro metti il piacere che sei per provare se tu te ne sarai astenuto e le lodi che ne riceverai da te stesso e se egli ti parrà tempo opportuno da venire a quel cotal fatto poni cura di non lasciarti vincere da quella piacevolezza e da quelle lusinghe e da quel dolce della cosa e metti a rincontro quanto è e ti saprà meglio se tu sarai consapevole a te medesimo di aver vinto a tu questa così fatta vittoria quando quando farai cosa che tu abbia considerato e giudicato di dover fare non volerti nascondere che gli altri non ti veggano a farla sebbene il più delle persone fossero per interpretare il fatto sinistramente perciò che o tu fai male ed egli si vuole anzi fuggire il fatto medesimo o fai bene e che timoriai tu di quelli che ti riprenderanno a torto siccome il dire o egli è di ovvero è notte quanto al senso disgiuntivo afferma e a gran forza ma pigliato congiuntamente tutto al contrario per simile il prendersi la maggior porzione della vivanda quanto al proprio corpo sta bene ed è molto acconcio ma quanto a quella comunione che vuolsi osservare nei conviti sconviene e non è a proposito pertanto quando tu sarai a mangiare con qualche altro ricordati di non guardar solo a quella convenienza che avranno le vivande con la utilità e col piacere del tuo corpo ma ezzendio a quella che debbe osservarsi rispetto al convitatore se tu prenderai a fare una persona da più che non comportano le tue forze primieramente tu riuscirai con poco onore in questa figura poi tu avrai lasciato indietro quella che avresti potuto sostenere compiutamente siccome andando per le vie tu hai l'occhio a non calpestare un chiodo e a non ti storcere un piede così abbi cura di non far pregiudizio alla parte principale di te medesimo e se altrettanto osserveremo in ciascun atto noi faremo ogni cosa più sicuramente misura dello avere si è a ciascun il proprio corpo siccome della scarpa il piede pertanto se tu ti conterrai dentro ai termini di quel che è richiesto alla tua persona tu serberai la misura ma se tu gli passerai di necessità ma se tu gli passerai di necessità da quell'ora innanzi andrai senza fine precipitando come per un dirupato non altrimenti che nella scarpa se tu passi più avanti di quello che si appartiene all'uso del piede la scarpa ti diventa prima dorata appresso di porpora poi ricamata gioiellata però che di là della misura non c'ha limite alcuno le donne insino all'età di 14 anni incominciano a essere chiamate dagli uomini con titolo di signore sicché vedendo che esse niente un altro pregio hanno ma solo son presate rispetto all'usare con gli uomini carnalmente dannosi ad acconciarsi ornarsi e a riporre ogni loro speranza in cotale studio pertanto vuol si por cura di far che elle si avveggano di non essere avuta in pregio se non se in quanto si dimostrino consumate vere conde e caste l'essere lungamente occupato di intorno ai servizi del corpo come dire agli esercizi della persona al mangiare al bere alle necessità naturali alle carnalità è segno di piccola indole queste cose si devono fare come per transito e tutto lo studio si deve porre intorno alla mente qualora alcuno con parole o con fatti ti offende sovvengati che egli opera ovvero parla in quelco tal modo stimando che di così fare ovvero parlare gli appartenga e stia bene ora ora è di necessità che egli si governi non conforme a quello che pare a te ma secondo che pare a lui sicché se a lui pare il falso esso sia il danno e non altri cioè a dire il danno è di colui che si inganna vediamo una verità di quelle che chiamano connesse se uno la si crederà falsa non la verità ma questo tale ingannandosi porterà il danno per si fatta guisa discorrendo tu comporterai mansuetamente colui che ti oltraggerà però che ogni volta tu hai da dire così gli è paruto che convenisse ogni cosa ha per maniera di dire due manichi a pigliarla dall'uno essa si sopporta dall'altro no se il fratello ti farà ingiuria non pigliarla cosa per modo che tu dica egli mi fa ingiuria perché questo è quel manico dal quale tu la prendi e la non si porta ma piglia da quest'altra banda e di mio fratello nutrito e cresciuto meco insieme e tu la piglierai da quel lato dal quale essa si può portare queste cotali argomentazioni non reggono io sono più ricco di te dunque io sono da più di te io più letterato di te dunque io sono da più queste altre reggerebbero bene io sono più ricco di te dunque la mia roba è da più che la tua io più letterato da te dunque la mia dicitura val più che la tua ma tu non sei né roba né dicitura uno si laverà in fretta non dire ehi si lava male ma egli si lava in fretta un altro berrà molto vino non dire egli bee male ma sì egli bee molto vino perciò come puoi tu sapere se quelli fanno male innanzi che tu abbi considerata e stabilita l'opinione che tu piglierai per tal modo non ti interverrà di ricevere una impressione e giudicare secondo un'altra non darti mai titolo di filosofo e tra gente comunale non volere se non fosse alcune poche volte entrare in ragionamenti di dottrina speculativa ma in quella vece opera secondo cotal dottrina a cagion di esempio in un convito non istare a discorrere come si debba mangiare ma si bene mangia come si dè non ti esca di mente che in si fatto modo anche Socrate rimosse da sé ogni ostentazione venivano a lui quando uno e quando l'altro chiedendo che egli dovesse introdurre ora questo ora quel maestro di filosofia ed esso menavagli dove volevano tanto ben sopportava di essere non curato e lasciato indietro ah dunque ponghiamo Ezian Dio che tra uomini comunali il favellare cadesse per avventura sopra qualche articolo di materia speculativa tu ti conterrai per lo più in silenzio perciò che altrimenti tu correresti gran rischio di gettare fuori quello che tu non avessi anco smaltito e quando qualcuno ti dirà che tu non sai nulla e tu per udir questo non ti sentirai pungere allora sappi che tu cominci a far frutto vedi tu che le pecore non portano al pastore erba per dare a vedere la quantità che le hanno mangiato ma smaltita la pastura dentro danno di fuori la lana e il latte e tu similmente non isciorinare sugli occhi dei non filosofi le dottrine speculative ma da quelle ben digerite dentro forma estrinsecamente e dimostra a coloro le operazioni quando tu sarai perfetto quanto all'uso e al reggimento del corpo non voler però pavoneggiarti e far mostra di questa cosa e se tu berrai acqua tu non dirai ad ogni occasione io non beo che acqua e se alcuna volta ti vorrai esercitare alla sofferenza per amor di te stesso e non delle cose estrinseche tu non andrai ad abbracciare le statue ma dall'ora che tu arderai dalla sete piglia una boccata d'acqua fresca e sputala e di ciò non far motto stato e contrassegno dell'uomo comune si è né beneficio né danno aspettarsi mai da se stesso ma si dalle cose di fuori stato e contrassegno del filosofo ogni qual si voglia utilità o nocumento sperare o temere da sé medesimo segni che uno fa pro della filosofia sono non parlar male di alcuno non lodar chi che sia di niuno lamentarsi niuno incolpare non fa vellar cosa alcuna di sé come di persona di qualche peso o che si intenda di che che sia provando impedimento o disturbo in qualche sua intenzione imputarla colpa a se stesso lodato ridere interiormente del lodatore biasimato non si difendere andare intorno a guisa che fanno i convalescenti guardando di non muovere qualche parte racconcia di fresco prima che ella si sia bene assodata aver posto giù ogni appetito ridotta l'avversione a quel tanto che nelle cose che dipendono dal nostro arbitrio è contrario a natura non dar luogo a prime inclinazioni e primi moti dell'animo se non riposti e placidi se sarà tenuto sciocco o ignorante non se ne curare in breve stare allerta con sé medesimo non altrimenti che con un inimico o uno insidiatore quando qualcuno si vanterà o si terrà d'assai per sapere intendere o poter dichiarare i libri di Crisippo di teco stesso se Crisippo non avesse scritto oscuro costui non avrebbe di che gloriarsi ma che è poi veramente quel che io desidero intender la natura e seguirla cerco dunque chi sia che me la interpreti e sentendo essere Crisippo voda lui ma non intendo il suo scrivere cerco dunque uno che me lo esponga e fin qui non c'è materia veruna di gloriarsi trovato lo spositore di Crisippo resta che io metto in pratica gli ammaestramenti che io ricevo e in ciò solo consiste quel che fa onore ma se io invagherò della facoltà medesima della interpretazione che altro mi verrà fatto se non che io diverrò un grammatico anziché un filosofo salvo che invece di Omero chiuserò Crisippo piuttosto dunque se uno mi dirà leggimi Crisippo e gli mi conviene arrossire quando io non possa mostrare i fatti concordi e somiglievoli alle parole se scun proponimento che tu farai volsi osservare e mantenere come fosse una legge e un punto di religione che che poi si dica di te il mondo non vi pormente poiché questa parte non è in tuo potere in che tempo dunque ti riservi tu ad aspirare ai maggiori beni dell'uomo e ad osservare in che che sia la regola che distingue le cose nostre e le esterne tu hai pur avuto i documenti che erano da meditare e quasi da conversare con essi tu li hai meditati e usato con esso loro che maestro aspetti tu anco sotto la cui disciplina tu intenda di voler dare effetto alla riforma di te stesso tu non sei più mica un fanciullo ma uomo fatto se tu ti starai così neghittoso e a bada senza pensare accumulando ogni giorno indugi con indugi moltiplicando impropositi destinando ora un termine e fra poco un altro in capo al quale incominciare ad attendere a te medesimo tu non te ne avvedrai che senza aver fatto un progresso al mondo sarai pur vissuto e morto uomo del volgo comincia dunque insino da ora a studiar di vivere da uomo perfetto e che cresca in virtù e tutto quello che ti porrà essere il migliore siati in luogo di legge inviolabile e come prima ti si farà incontro a alcuna cosa dura e spiacevole oppur dilettosa e dolce da l'una che porti secco la estimazione o la lode ovvero il dispregio e il biasimo delle genti fa ragione che gli sarà venuto il tempo dell'oaringo e quella esser l'ora della solennità olimpica e non ci aver lungo indugio e secondo che tu sarai perdurare ovvero per cedere in una battaglia tu perderai ovvero conserverai lo avanzamento nel tuo bene Socrate in così fatta guisa diventò perfetto a niente altro avendo riguardo in ciascheduna cosa che gli incontrava se non solamente alla ragione e se ben tu non sei per ancora un Socrate tu dai però vivere come uno il quale desideri di essere tale il primo e più necessario luogo della filosofia si è quello delle proposizioni morali pratiche come sarebbe per modo di esempio questa che egli non si deve mentire il secondo è quello delle dimostrazioni come per esempio provare con argomenti che non si deve mentire il terzo serve a confermazione e distinzione delle cose stesse e trattavi si ponghiamo donde è che questa tale è dimostrazione e che cosa è dimostrazione e che cosa sono conseguenza e ripugnanza verità e falsità di modo che il terzo luogo è necessario a rispetto del secondo il secondo a rispetto del primo ma il più necessario di tutti e dove si deve restare si è il primo ora noi facciamo al contrario che noi soprastiamo al terzo luogo e in quello poniamo tutto lo studio e la industria ed il primo non abbiamo un pensiero al mondo e che avviene che egli si mente ogni dì ma e come provare che egli non si deve mentire questo si ha in sulle dita abbiansi ad ogni occasione apparecchiate queste parole mena mio giove e con giove tuo destino in quella qualsia parte a che mi avete destinato e io vi seguirò di buon cuore che se io non volessi io mi renderai un tristo e un da poco e niente meno a ogni modo vi seguirei ancora chiunque sa bene accomodarsi alla necessità tiene appresso noi grado di saggio ed esso ha il conoscimento delle cose divine ancora in terzo luogo o critone se così piace agli dèi così sia anito e melito mi possono bene uccidere ma non già offendere